Si è svolta nei giorni scorsi l'ennesima riunione del Consiglio europeo. I temi all'ordine del giorno erano essenzialmente due. Uno, la Brexit, e l'altro era i temi del negoziato sul Next Generation EU e sul multi-annual financial framework, che come sappiamo hanno trovato un accordo congiunto nel vertice di luglio. Per quanto riguarda la Brexit, si è semplicemente preso atto della situazione di stallo nei negoziati e che quindi molto probabilmente si andrà verso un no deal. Però ancora naturalmente le due delegazioni stanno cercando di negoziare in modo da trovare un accordo. Invece è un pochino più seria la situazione per quanto riguarda il Next Generation EU e il multi-annual financial framework perché il Parlamento europeo sta cercando, giustamente essendo la Camera legislativa che rappresenta i cittadini, sta cercando di salvare alcuni programmi che erano stati penalizzati dal negoziato di luglio. Quindi cercando di aumentare la dotazione del multi-annual financial framework, il bilancio dell'Unione europea pluriennale, senza appunto naturalmente intaccare il Next Generation EU. La presidenza tedesca in questa fase ha semplicemente preso atto di divergenze profonde tra gli Stati nazionali che impediscono di trovare un nuovo accordo per adesso, anche se si sta dando particolarmente da fare per cercare di sbloccare la situazione. In sostanza il vertice di questo fine settimana scorso non ha portato assolutamente a nulla. È l'ennesima dimostrazione che quando una decisione collettiva avviene col sistema dell'unanimità non è possibile fare nessuna decisione collettiva. che è l'auberta.